13, 14, 15 ottobre, terza edizione delle Rally delle Marche, un evento relativamente giovane ma che già riscuote tanti consensi come dimostra già la tanta partecipazione di iscritti a questa edizione. Sì, anche quest'anno è la terza edizione, abbiamo fatto il pieno, siamo molto contenti, abbiamo 200 partecipanti che provengono da tutta Italia e quest'anno anche dall'estero per la prima volta. Abbiamo chiuso a 200 partecipanti per non creare troppa confusione e per rendere l'evento non troppo impattante anche a livello ambientale. Venerdì è dedicato all'arrivo dei partecipanti, sabato mattina si parte verso le 8 e si effettua un percorso turistico attraverso strade di particolare interesse paesaggistico, si arriva fino all'Apennino e poi si torna in serata al paddock. Il paddock si trova al mare alla Palà di Pomodoro. Domenica si effettua la stessa cosa, si parte sempre la mattina alle 8, si va verso l'interno e poi si ritorna verso il primo pomeriggio in modo che i partecipanti hanno il tempo necessario per ricaricare le moto e tornare a casa. Questo è il terzo anno per noi che partecipiamo come sponsor, è una partnership ormai assodata, quella tra noi e il Rally delle Marche. Anche quest'anno invieremo una squadra dei nostri ragazzi che insomma si sono meritati l'onere e l'onore di partecipare come squadra di EG Motorsport. La promozione del territorio è un valore che sosteniamo assolutamente anche noi, tant'è che ci piace partecipare a questi eventi. Pesaro, terra di piloti motori e noi siamo molto felici di poterne fare parte. Ricordo che il Rally delle Marche non è un evento competitivo ma è una passeggiata turistica con l'obiettivo di promuovere il territorio della provincia di Pesaro e della regione Marche. Sono aperte tutte le moto, chiaramente in regola con il coce della strada, proponiamo un percorso touring quindi completamente asfaltato, poi proponiamo due tipi di percorsi che percorrono strade asfaltate secondarie e normali strade bianche e poi c'è il percorso adventure che è un pochino più, non dico difficile, però percorre anche delle strade comunali sempre aperte al traffico, però magari dove bisogna stare un po' attenti con un fondo magari sdrucciolevole per dare un po' di pepe al partecipante che ha un po' più di esperienza di guida in fuoristrada. Il DG Motorsport si è impegnata grazie a Alessandro di portare dei mezzi che appunto è il connubio perfetto Tenerè e Rally delle Marche, avremo la Tenerè World Raid, la Tenerè Rally e la Tenerè World Rally che sono le ultime tre arrivate di casa madre e le faremo provare il venerdì pomeriggio, sabato tutta la giornata e anche domenica mattina. È un evento di grande interesse che promuove il nostro territorio, un po' quello che stiamo cercando di fare da diversi anni, promuovere quelle che sono le eccellenze della nostra città, del nostro territorio come quello della cultura dei motori, la cultura motoristica e ringrazio Alessandro Tamburini perché su questo è un'eccellenza, un pesarese doc che promuove il nostro territorio non solo a livello locale ma anche a livello internazionale. L'idea che abbiamo avuto qualche anno fa di far sì che le Marche diventasse una terra di piloti di motori è un'idea che è stata sicuramente vincente, ricordo che ancora qualche settimana prima c'è stata la Settimana Benelli organizzata dal Motoclub Benelli dove anche lì c'erano centinaia di motociclisti non solo dall'Italia ma anche da molti paesi europei. Poi c'è stata la Coppa Faro, la prossima settimana come dicevi domenica questa ci sarà il Motorraduno Sant'Angelo Invado che quest'anno compie 45 anni e questa iniziativa del Rally delle Marche è un'iniziativa importantissima perché veramente sono tre giornate alla scoperta di quelle che sono le bellezze che il nostro territorio riesce a proporre sia dal punto di vista paesaggistico che dal punto di vista gastronomico, quindi una bella iniziativa. Queste sono realtà dove veramente vengono persone che si fermano da noi e io devo dire che in appena un mese sono secondo me anche più di mille le persone che sono venute in città solo per le iniziative organizzate legate alla terra dei piloti di motori. Quindi complimenti a tutti e io devo dire che noi continueremo a puntare su questo tipo di promozione perché ritengo che sia vincente ma soprattutto che sia un tipo di promozione diversa rispetto a quella che viene fatta normalmente e che in molte regioni ancora non fanno.